Siamo qui nella nostra nuova stanza PoliComfort, l'abbiamo chiamata perché unisce tante funzioni in un ambiente molto domestico ma la cosa più importante per noi è che permetta alle mamme di poter portare i bambini in ospedale in un luogo domestico che ricordi un po' il salotto di casa, anche se possiamo non interrato, con una bellissima luce solare e quindi permettere di fare screening e prevenzione del tumore al seno senza più la preoccupazione e l'assillo di dover trovare uno spazio dove lasciare i bambini o babysitter o nonni che spesso non ci sono, non possono e per cui il nostro ospedale è ancora una volta all'avanguardia sulla umanizzazione, sul dare un servizio a tutti gli utenti milanesi e lombardi che possono così fare un percorso di prevenzione e cura con maggior serenità questo è un po' il senso di questa stanza